The Show Alfredo della seconda F Va bene, ok Ah ma questa Ma sembrava un ragno Sì eh Mi scusi signora Si sta avvicinando la prova costume Secondo lei va bene un intero Cioè mi sta bene O serve meglio un due pezzi Perché non so se mi valorizza al lato B questo qua Cioè io mi sento un po' No, deve vedere lei Se resta meglio con un due pezzi Un po' perché all'intero mi fa sentire un po' a mio agio Però il due pezzi magari Voi li avete? Devo provare a chiedere alla collega Ah, vado nel reparto allora ragazzi A me servirebbe dell'acqua ragia Si E questa sbianca In che senso sbianca? Cioè in senso che devo fare uno sbiancamento anale Ma cioè intendi su Sullano Cioè lo sbiancamento anale Non lo so Cioè irrita Non ho capito Cioè nel senso non so Non ho capito se Cioè dove Che c'è? Contiene Stai dicendo per lo sbiancamento anale E che non so se irrita questo coso qua Sulla pelle irrita? Certo che non puoi metterlo Specialmente sulla pelle viva Ma eventualmente del bianco Mi sembra anche il culo Non mi devo sbiancare il culo E io ho un problema con questa scarpa rossa laccata tacco 6 Praticamente si è abrasa tutta sul fronte Non ci prepara niente Nulla? Perché è della madre della mia ragazza E devo dargliel' assolutamente aggiustata Perché se no si accorge di questa cosa E non si riesce Niente? Ma neanche se Perché magari se le spiego la dinamica Di come è successo Praticamente io semplicemente leccandola Proprio così Facendo così Beato è lei che fa questo lavoro Che ha contatto con tutte queste scarpe Ma io non le mangio le scarpe Ale non le assaggia mai? No eh Vado che se no mi esplodono i pantaloni Una domanda Voi fate stampe Se io vi do una chiavetta JPEG o PDF PDF Ok si chiama Black and White Passion Ok Beh dai Pensavo peggio Se no lei va bene o va un po' Schiarita Meglio la lasciare così No perché non vorrei che Sia troppo scura E i cani I peli cani Si confondessero con i miei peli Allora ha già fatto più scura? Sì Ma ma si Cioè si capisce di un chihuahua? Sì sì Sì? No perché io ho deciso Con il mio compagno Se mettere un chihuahua O un bracco polacco A pelo corto Però il mio compagno mi ha detto Il pelo corto già ce l'hai tu Quindi mettiamo il chihuahua Guarda Credo ci sia un problema Cioè? Eh praticamente Mi sa che mi sono E' un sfiorato Come può essere Diuscito il naso? Non lo so Mi si sono arrossati Tutti i testicoli Mettiti Mettiti Dell'acqua Eh Non ho fatto apposta Mi sono usciti nel mentre Mettiti dell'acqua? Ti dico se vuoi Ti chiamo l'ambulanza No grazie Che figura faccio? Cioè io volevo fare la Che figura faccio? Ma sei fuori? Guarda che è una zona sensibilissima Eh lo so Ma non ho fatto apposta Io stavo facendo la lampada Quei cose sugli occhi Mi sono usciti piano piano Ho cominciato a sentire scottare E sono corso fuori Io ti chiamo l'ambulanza No magari sei del No ti prego Non chiamare Cosa gli dico? Ma sei matto Ma guarda Ho fatto una lampada I coglioni Mi sono soluzionato Guarda che E prendi come quando ti scotti al mare Che ti vengono le vesciche E puoi immaginare quanto Si sottili la pelle dello scroto? Vengono le vesciche sullo scroto? Secondo me si Ma perché non lo so Magari tu sai che sei esperto Se puoi dargli un piatto Dai Sì vorrei impegnare dell'oro Che avevo in casa Impegnare? Vendere? Vendere sì scusi Vediamo Perché sono entrati i ladri in casa Settimana scorsa C'ho un po' d'ansia adesso Nel tenerli Il problema è che io Appunto quando sono entrati Preso dall'ansia Gli ho ingeriti Completamente Diciamo che così Non può sorrirarlo In che senso? No perché io non vorrei Cioè mi faceva un po' schifo Mettere la mano nella mia merda Perché la metto io? No volevo che lei valutasse Se era possibile l'oro C'è una collanina della Cresima Capito ma che ci vuoi L'oro in questa merda? Non vuoi pensare Che noi prendiamo in mano Quella cosa di mora? Non è voglio scherzare No è che la mattina L'oro in bocca E io ce l'avevo nel culo Io ho questo problema di sanguinamento Oggi non se Si è Raticamente È tutto Sto stupidamente Da un po' di giorni Ho provato a risolverlo Da solo Tamponandomelo Con questi tampax Della mia ragazza Ma hai fatto estrazioni a qualcosa? No non ho fatto nulla E io li metto all'interno Così e questi cosa fanno? Effettivamente funziona Perché assorbono tutto il sangue Ed è L'unica cosa che ho provato Anche con degli assorventi esterni Il problema qual è? Che quando io mi do la frismosa Ti coca il mio cuore Cioè non so se ne capisce Certo Buongiorno Lei è un medico? No magari si Perché praticamente Ti vediamo Non so se magari sbaglio Tipo di tampax Che questo è quello per i cicli abbondanti Però nonostante tutto Devo continuare A cambiarlo Magari devo prendere una sorvete Con le ali Non lo so Io settimana scorsa Sono stato dal mio omeopata Per un piccolo problema Legato a un emorroide Che mi è venuta E mi ha consigliato Degli impacchi Di lattuga Consiglio mio A livello locale Vai in farmacia Perché le spiego Cioè No più che altro L'infiammazione No gli impacchi Erano proprio foglie di lattuga Messe sul sedere Ma stai bene Ma come stai? No mi fa malissimo signora Non sto bene In farmacia Perché non so se è questo O anche L'aspargo Che mi ha consigliato Questo potrebbe creare dei problemi Più che altro Perché mi sembra di avere un minestrone Suggerato nel sedere A me Mi dà un po' fastidio Ragazzi lasciate 100.000 like Per il prossimo video All'interno dei negozi E suggeriteci Nei commenti In quale attività farlo Chiaramente Non scriveteci In quel che vi ho già fatto adesso Se no grazie Mi raccomando Cliccate su di noi Per iscrivervi al nostro canale Qui apparirà L'episodio precedente Frasi che non diresti A una commessa Andate a vederla Quasi a 100.000 like E inoltre abbiamo Reazioni Backstage Ed extra Andate a vederli tutti Ci vediamo Venerdì Alle 14